Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio apparso nella trasmissione di Giovanni Floris, la 7, e viene chiesto agli intervistati come sta andando Giorgia Meloni con le promesse elettorali. Per il 71% degli intervistati sta facendo meno di quanto promesso in campagna elettorale, mentre i CPR, centri per i rimpatri, non saranno in grado di risolvere il problema per il 51% degli intervistati. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.